Altro che esproprio ai Benetton 12,5 miliardi. Autostradopoli comincia così. Su autostrade i giornali filogovernativi si sono bevuti tutte le balle del governo, ma a distanza di due giorni la polveriera sollevata da Palazzo Ghigi sta cominciando a depositarsi. Il gruppo descrive l'operazione come un esproprio, i grillini si vantano di averli presi a schiaffi, la realtà però è che l'azienda ha fatto un affare, e forse alla fine sarebbe stato meglio revocare subito la concessione e far scattare la buona uscita da 23 miliardi. Io devo dire che quando ho sentito far scattare la buona uscita dico ma sono matti. E invece se andiamo a leggere qualche cosa si capisce. Cominciamo con il mettere in fila alcuni numeri. Dopo il crollo del ponte Morandi, Giuseppe Conte aveva minacciato la caducazione della concessione, cazzo cazzo, cioè di togliere la gestione della rete autostradale alla famiglia Benetton. I magliai veneti a questo punto avevano replicato che da contratto una simile decisione avrebbe fatto scattare una buona uscita da 23 miliardi, assicurando al gruppo di Ponzano una plusvalenza stellare, 5 stellare. Per tutta risposta l'esecutiva aveva deciso di modificare per legge la penale prevista dal contratto, inserendo nel decreto mille proroghe un articolo che di fatto faceva scendere di oltre due terzi la liquidazione, 7 miliardi invece di 23. Certo si può discutere della legittimità di un provvedimento che modifica a posteriori la clausola, ma la via imbocchata dal governo era quella e sulla base dei 7 miliardi, che già sono una cifra mostruosa, è stata intavolata la trattativa. Ora andiamo a vedere che cosa alla fine porteranno a casa i Benetton. Allora prima di procedere a vedere cosa portano a casa, io ho fatto una constatazione, ma insomma quando tu dai un bene in concessione, che potrebbe essere una casa data in affitto, un locale dato appunto in gestione, la proprietà rimane in capo a chi ce l'ha, l'altro deve solo gestire e nel caso specifico dell'autostrade curando la manutenzione e tutto il resto. Se un ponte crolla perché la manutenzione non l'hai fatta, ma quale articolo di... Niente, ti caccio, ti caccio, punto e basta. Comunque, andiamo avanti. Cominciamo col dire che l'operazione messa a punto da quei cervelloni del Ministero dell'Economia e del Presidente del Consiglio prevede un passaggio di mano dalla famiglia Vene dallo Stato in più mossa. Si comincia con un aumento di capitale riservato a Cassa Depositi e Prestiti del valore di oltre 3 miliardi che consentirà a Cassa Depositi e Prestiti, cioè una società che investe il risparmio postale, di diventare azionista di autostrade con il 33%. I Benetton a questo punto potranno vendere a istituzioni graditi a Cassa Depositi e Prestiti il 22% della società e calcolando un valore di circa 9 miliardi si può supporre che il valore oscilli intorno ai 2 miliardi o poco meno. Soldi che verrebbero intascati da Atlantia, ossia dal gruppo Veneto, sostenere che nemmeno un euro andrà nelle tasche dei magliai di Ponzano è dunque una balla. E vabbè, ma probabilmente non si rendevano conto di quello che dicevano quando l'hanno detta. Non è finita. Dopo l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e la vendita del 22% rimane un 37% nelle mani di Atlantia che la holding dovrebbe girare direttamente ai suoi azionisti visto che i Benetton detengono circa il 30% alla fine si troveranno direttamente in mano l'11% di autostrade che quando la società sarà collocata in borsa come da piano del governo potrà essere venduta direttamente al mercato e considerando, come detto, un valore intorno ai 9 miliardi per il gruppo Veneto significa portarsi a casa un altro miliardino. Al momento dunque per quello che Luciano Benetton ha definito per poi smentirlo un esproprio a Ponzano si mettono in tasca 3 miliardi. Attenzione però, non è tutto qui. Già perché separando i destini di Atlantia e Autostrade si separa anche il debito nel senso che questo segue la società che gestisce la rete e non la holding. All'incirca stiamo parlando di 9 miliardi e mezzo 5 dei quali erano direttamente garantiti da Atlantia e così si trova più leggera e con 3 miliardi tondi tondi. Già già così il vantaggio per gli esproprio è insomma 12 miliardi e mezzo che è un bel modo di farsi risarcire per essere presi a schiaffi copyright di Alessandro Di Battista ma poi c'è da tenere presente che l'Aspi se vorrà mettere in sicurezza la rete autostradale dovrà sostituirsi ai Benetton eh già cioè investire 14 miliardi e mezzo previsti nei prossimi anni dunque dunque tradotto in soldoni con la nazionalizzazione lo Stato innovazionisti che subentreranno si faranno carico di 9,5 miliardi di debiti 14,5 miliardi di opere di manutenzione e 3 miliardi da regalare ai Benetton totale 27 miliardi eh no però c'è ci sono i 17,7 miliardi di attivo che si prendono sono i beni immateriali la fuffa i residui attivi dei bilanci comunali di sicuro il risparmio i Benetton non lo hanno già fatto a prescindere dai destini giudiziari di natura penale che riguardano i manageri di autostrade Atlantia separandosi da Aspi non deve temere ricadute di alcun tipo in termini di responsabilità aziendale e di risarcimento d'ora in poi grazie a Roberto Gualtieri a Giuseppe Conte di queste cose si farà carico la nuova gestione ultimo punto visto che i nomi dei partner che circolano per la nazionalizzazione sono fondi di investimento i quali hanno come missione l'acquisto di quota azionarie che rendono meglio scordarsi la riduzione delle tariffe autostradali tagliando i pedaggi non ci sarebbe spazio per distribuire dividendi e investire 14,5 miliardi in sicurezza a meno di non fare altro debito è vero che in questo la maggioranza giallo-rossa è rotata prova ne sia l'ultimo bollettino della Banca d'Italia in cui l'isposizione dell'Italia ha toccato il record ma autostrade sarà quotata e rischia di finire nel listino dei titoli spaziatura dunque dopo la maxiballa dell'esproprio che fa seguito alla maxiballa abbiamo eliminato la povertà siamo alla maxiballa delle tariffe un governo che va di balla in balla e infatti vedete qui c'è poi un corsivo no? Gualtieri ha guardato dei pedaggi ora abbassiamo i pedaggi aveva sparato Luigi Di Maglio raggiante per l'esito della vicenda Aspi e certo come no a replicare ci ha pensato Roberto Quartieri su Corsera domanda il fatto che l'operazione ha sposti 10 miliardi di debito dai soci privati di Atlantia al socio pubblico di cassa depositi e prestiti cioè lo Stato la lascia tranquillo risposta il debito non si sposta da nessuna parte resta dov'è in Aspi cioè quella che ti vai a comprare che conserverà una redditività adeguata a ripagarlo ecco si scrive redditività si legge col cavolo che cala i pedaggi e poi ce n'è c'è un'altra considerazione qua un'altra considerazione subito dopo la tragedia del Ponte Morandi si era capito come sarebbe andata a finire il rifiuto ai funerali di Stato di più della metà delle famiglie è stato un atto culturalmente rivoluzionario comunque il rifiuto tutte le persone per bene è come se avessero urlato basta ci avete proprio stufato ci avete proprio rotto si augurava che non si verificasse il solito balletto invece a Riec cioè Atlantia ha comprato dallo Stato un business basato sui pedaggi versus manutenzione il ponte è caduto la fatalità è tasseativamente esclusa nessun corpo celeste sul Polcevera resta la mancata manutenzione cioè resta Atlantia in termini di responsabilità civile il penale riguarderà i singoli e teniamolo fuori percorri in auto una strada a pedaggi e cadere in un fiume perché il ponte crolla al tuo passaggio è inammissibile i ponti possono essere stati mal progettati aver avuto una cattiva manutenzione essere invecchiati precocemente ma il gestore se del caso li chiude li ripara li abbatte se non lo fa è colpevole punto Atlantia di questo deve rispondere se poi il controllore il ministero non ha controllato pagherà anche lui e a me uno mi diceva ma sicuramente hanno preso dei mazzetti ma io non ci credo non ci credo nel modo più assoluto sarebbe andare a vedere la situazione patrimoniale di tanti di questi mandarini che stanno dentro i ministeri dunque soprattutto quelli che hanno concepito quell'ignobile contratto di periodizzazione una regalia nascosta in allegato secretato secretato roba da Venezuela parliamo del primo contratto primo contratto c'era il Prodino dietro al Morandi vedo un pericolo mani pulite e perché questo dice mani pulite avendola vissuta non vorrei si ritornasse al balletto di allora dove l'establishment coincidente con i vertici delle grandi aziende corruttrici prima cercò di farsi passare per concusso poi trovò i soliti capri capri e spiatori interni offrendoli in sacrificio ai magistrati pigri su Repubblica ha parlato il CEO di Atlanta imbarazzante gli avrei fatto una sola domanda il vostro core business è la manutenzione dateci il documento politica di manutenzione per ponti e strade te danno cazzi oh poi vediamo un po' questo scrivevo due anni fa ma in realtà io sapevo come sarebbe finita a schifio conosco troppo bene come costoro ragionano come si muovono i comitoli di interessi che condividono con il deep state sapevo che la priorità non sarebbe stata giustizia per i 43 morti ma salvare il business e il patrimonio di Atlanta e a dei suoi azionisti fra questi c'è la tedesca Allianz la cinese Belt and Road Initiative e poi una delle grandi famiglie imprenditoriali ma imprenditoriali italiani ovvia la scelta sapevo che il modello da applicare sarebbe stato quello classico di mani pulite primo silenziare secondo buttarla sul penale con la diridera della fiducia verso la magistratura che fra qualche lustro condannerà un paio di funzionari terzo nel frattempo Atlanta Deep State cioè tutto il sottobosco statale governo partiti di maggioranza e di opposizione Parlamento confezionano il pacchetto se indignano se incazzano e qua e qua e qua è congegnato in modo che qualsiasi mossa per colpire il colpevole sia preclusa venite affrascati e vi renderete conto che del disastro non paga a nessuno o perché diventerà nel frattempo impraticabile si affretta a ricordarlo l'avvocatura di Stato o perché interverebbero Strasburgo e la UE perché i sindacati si oppongono perché bisogna portare i giri piccoli azionisti e perché i media di regime intanto si buttano sul pacchetto comunicazionale è andata proprio così sono passati due anni il pacchetto ha dimostrato che ancora una volta il modello ciocapitalismo ha vinto questo scenoprocesso Atlanti ha comprato allora nel modo che sappiamo ha gestito nel durante nel modo che sappiamo esce ora nel modo che sappiamo era tutto scritto era tutto scritto giustizia che mai avranno anzi se hanno risparmi alla posta la pagliacciata sarà finanziata anche dai loro quadrini capito brava gente capito abbiamo eliminato la povertà abbiamo preso schiaffi i Benetton è venito a dare qualche schiaffo pure a me che ve possi non spararve incapaci incapaci o non si rendono conto e questo è gravissimo è gravissimo oppure c'hanno il loro torna conto se non si rendono conto grazie a tutti